Ciao da Tataag e da Gonzuto. Benvenuti in un nuovo appuntamento su FIFA. È un po' che giochiamo ma abbiamo aspettato la Champions League e oggi emuleremo la semifinale a Tatico Madrid-Celsea. Bene, iniziamo allora. Benvenuti in questo appuntamento e iniziamo la semifinale di Champions League. Oscar. E lo fermo. Giommata! Palla alta! Damirezzi! Bah! È del un azzardo! Tiro! Da lì era un po' difficile. Così ho il volo. Cooke! Quello che ha segnato contro il Barcellona. Grande opportunità! Quisce la palla di testa! Botta e risposta! Perché il mio è cascato in terra? Cooke! Gioco di passaggi! Interrompono l'azione! Zon Terry. Esperienza. Giommata! Bah! Chiuso dall'avversario. Tingo Costa. David Luiz lo ferma. Lo ferma. Lascia il gol. L'hai ucciso. Giommata! Si bella tutto. Rischia David Luiz. Terry. Chi è che è morto adesso? Morto, morto, morto. Fabio gli si è girato leggermente il ginocchio. Ma sembra che possa... Gli hai girato il ginocchio? Grazie! Ivanovic! Il cross! Non ci arriva mai. Vai! Per l'arbitro non si trattava di un pallo da sanzionare. Riesce a saltare il proprio avversario che si era buttato a terra. Spezzata classica. Scarica sul compagno. Prova a rubarvi palla per il contrasto scivolata. Bologgi. Baloggi. Oscar. Da premio! Fai, vai. Il blocchio. Gabi. Gabi, Gabi. Che tiro! Diego Costa. Non pensavo. Non trasse. Ma perché non era troppo forte il tiro? Era bello angolato, però. Quello. Ci esiste un buco, ho detto, devo provare. Era in posizione check. Non c'è arrivato. Ivanovic. Ora in Chelsea che si porta in avanti. Si porta il Chelsea. L'atletico si difende bene. Perdono palla. Rischia il calcio. Per un pero. Per un pero. Mata. Non ci credeva. Sale la squadra. Costa. Il pallone finisce agli avversari dopo attraversare. Sbaglio in tutto. E riparte il Chelsea. Oscar. Davide un contropiede non troppo incisivo. Trovano gli spazi ma... Filippo e Luiz sono tutto. No. No. Sbaglio in tutto. Ops. Il direttore di gara non interviene. Buona. Cerca di liberarsi Lampard. La difesa avversaria ha messa male. Possono infilarla in contropiede. Davide Luiz. Cosa fa? Mettete di passarla. Non faccia male di niente. Non passava nel portiere. Nei ne avanti si stava. Suicidando. Mamma mia che rischi quando fanno queste cose. Dembaba. Ruba palla al proprio avversario con un intervento efficace. Depressi della linea laterale. Dai. No. Ha fatto la stupidata. Bene, amici. Filtro troppo lungo. Possibile cambio di fronte. Ma cosa? Ma cosa? Passaggio completamente sballato. Rimessa per gli avversari. Riporta il Chelsea. Mata. Sviluppano giù. Lamparda. Tire deviato. Corner per il Chelsea. Ops. Cosco il recupero Abba. Fuori. Pericoloso il Chelsea. Sviluppano giù. Sviluppano giù. Sviluppano giù. Ora tocca l'Atletico. Farsi pericoloso. Attenzione. No. Non così però. David Luiz. Sbaglia tanto in questa partita. Vedeba. Lo lancia. Stratonato. Fallo. Soliti falli. La gomita. Neanche il giallo. Incredibile neanche il giallo. Sempre impunito. Sbaglia tutto. Il tiro non era proprio strego. Ci ha battato. Atomica. Dove sono tutti? Ma in qualche modo ce la fa lo stesso. Sbagliato. Ivanović. 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 Fini del primo tempo. Divino a chi tutte le statistiche. Te la tico in vantaggio. Sbagliato. Sbagliato. Nonostante il risultato è ancora un incontro apertissimo. Più tiri il Chelsea. Però meno incisivo. Nessuno riprende con il secondo tempo. Ramirez. Numeri. Si sbaglia tutto. Passaggio a buon fine. No. Dove farlo un po' più lungo. Giomata. Lo so va. Prova il cambio di gioco. Ma non ci riesce. Che tiro. Buona parata di Zwerg. Ci aspetta un corner. Calciadagolo abbattuto con la palla che viene riportizzata da mia passata. No. Sbaglio tutti i bonus. Viago. Da lì potrebbe crossare. E li portò il più uno. Ramirez. Bah. Sale la squadra. Allarga. Per giù ammata. Oscar. E il gol. Incredibile gol di Oscar. Gol da Oscar per Oscar. Tutto culo. Azione mostruosa del Chelsea. Con una fittareta di passaggi. E arriva il gol. Un gol per parte. Si ricomincia. Grande parte di check. Dai corri. Giommata. Sempre lui. Lancia il compagno. Hazard. Contropiede. Bah. Sbaglia tutto. No. Hazard. Grandissimo gol in contropiede. E ribaltano il risultato. Incredibile. Sbaglia tutto bah ma Hazard approfitta. E segna. Con un semipallonetto. L'interno. Si riprende. Con l'Atletico Madrid sotto per 2 a 1. Gabi. Damiriz. Chiude il triangolo. Chiude il triangolo. Si fa sotto. Che gol. Gabi. Che culo. Recupera subito. Partita incredibile. Gol spettacolare. Scarta tutta la difesa. Sbaglia tutto Terry. Si riparte. Il risultato. Tutto da rifare. Ivanovic. Oscar. Va via. Si fa avanti il Censi. Se va. Contrasti scivolati. Ottimo passato. L'azzardo. Sbaglia tutto. Dipensore. Oscar. Fuori di più. Buonissimo. Mamma mia. Brividi. Partita. Divertente. Mamma mia. Che fatica per prendere col pallone. Raggiunge il compagno. Non è da solo al centro. Cerco. E riparte il Censi. John Mata. Fulcro delle azioni. Hazard. Con la sua classe perde palla. Gabi. Possono ripartire. Esche check. Sicuro. Scambio fashion. Lasci il culo. Palla Lampard. Le Zunze va. Lancia il compagno. Mata davanti al portiere. E gol. Incredibile gol di Mata. Partita incredibile. E c'è il balletto. Samba per Mata. Gol spettacolare. Balance al compagno. Niente da fare. Per il portiere. Vai 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 vai. Tocco intelligente. Dico Costa. No si fa fregare. Non 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 si fa fregare. E' intrascivolata. Oscar sveglia tutto. Il ballo laterale. A favore del guarderico Madrid. Questa è la statistica relativa al possesso palla delle due formazioni. Maracek. C'era sul pallo. Mamma mia a te. Erichirischi. Sbaglio nel rinvio. Le prende palla al Chelsea. Si allontana dall'area. Mata. Le prende palla. Ricopre subito Oscar. Saleba. No. Non l'ho preso. Giovanissimo. Promesso per il calcio. Niente. Perde palla. Per tanto è troppo. Ramirez. Aschilicone. Partita. Ad alti ritmi. La posta in palio alta. Mata. Hazard. Stringi i denti e cerca di essere il capo nonostante l'inforzamento. Mi ha deciso anche un altro giocattore. No. Non ho pensato che si è sfruttato da solo. Lampardo da fuori. Vuole di poco. Grazie. Sarà rimesso da cuore. Godin. Ma... Rischi. Palla al compagno. Si spinge in avanti. Oscar. Il tiro da fuori. Facile per il portiere. Se l'atletico... Terry sbaglia ma... Ricoprano tutto no. Perde palla anche Ivanovic. Turan. E la difesa? Vediamo il tiro! Sono confermato di essere ancora in partita. Occasione fallita di un soffio. Ivanovic. Oscar. Chissà se questa partita avrà ancora qualcosa da dire in questo finale. Palla al compagno. Battute finali della partita. Si trova l'atletico. Riparte il Celsi. Lampard sbaglia tutto. Non sa lungo. Deve essere sentito tirare un muscolo. E' morto poi qualcun altro. Sì. È il mio guardalo lì. Va. Va via tutto solo. Quanto è finito in giorni. Hazard. C'è in alto il pallone all'ottono dell'area. Dai coche. Probabilmente l'ultimo sedio. Trossa. Sbaglia tutto. Che parte del Celsi. Un'azard. Va via. E finisce qua. Finita. Grande vittoria del Celsi per 3 a 2. Se vi è piaciuta questa partita. Mettete un pollicione in su. Commentate. Iscrivetevi. Ciao a Tataag. E da Gondiut. Ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti.